Ascia Capoluogo, Palazzo Ricci di Dominicis, corso di formazione dal titolo Cervello Informatica, Ciberspazio, Sanità e Dipendenza organizzato dall'Università Popolare di Medicina degli Stili di Vita, Lifestyle Medicine, in collaborazione con il sindacato SNALV Sanità nella persona di Gennaro Vasile, di Vallo della Lucania e con il patrocinio del Comune. Sì, dunque, il corso che quest'anno abbiamo organizzato riguarda un poco il mondo dell'informatica e la cibernetica in particolare affrontandolo da varie sfaccettature, sia rispetto all'aspetto sanitario e quindi alle patologie che oggi modernamente limpiano un po' le cronache rispetto per esempio alle dipendenze degli smartphone, dai computer, dall'internet e così via sia rispetto poi ai danni che questi sistemi possono oppure, per meglio dire, l'uso non corretto di queste tecnologie può portare ad un utente sprovveduto. Chiediamo parlare in questi eventi delle correlazioni tra l'informatica, quindi un po' il mondo di internet e la fisiologia umana partendo dalle basi biochimiche fino poi agli aspetti un po' più pratici come anche il ciberbullismo o l'aspetto cosiddetto dark del web. Oggi abbiamo iniziato questo percorso partendo ovviamente dalle basi ricordando che uno dei sistemi più importanti che regolano l'adattamento e la sopravvivenza della nostra specie sulla Terra è legata al cosiddetto stress ossidativo che è un meccanismo fisiologico di adattamento dovuto all'interazione tra specie molecolari che chiamiamo comunemente radicali liberi e specie di controllo che noi chiamiamo comunemente antiossidanti. Questo sistema è stato creato nel corso di millenni di anni di evoluzione e ci preserva da una serie di problematiche di tipo ambientale. Allora innanzitutto noi facciamo da un po' di anni questa partnership con l'università per cui università, festival e archivio perché come festival abbiamo un archivio che si chiama ACEM, Archivio delle Culture Mediterranee. Oggi in occasione di questo argomento molto interessante che è il cervello le malattie mentali, il cyberbullismo. Abbiamo proposto un lavoro molto bello di Andrea Jubelin, un film un po' di rottura per questo oggi ho presentato qui nell'ambito dell'iniziativa. Allora oggi abbiamo affrontato il problema dei pericoli e delle difese nel ciberspazio. Il ciberspazio è il luogo delle macchine intelligenti, di tutti i dispositivi intelligenti di tutti i vari tipi e delle persone che interagiscono con essi e che interagiscono tra loro. Abbiamo evidenziato i rischi che ci sono, i pericoli che ci sono in questo ciberspazio, le difese possibili e abbiamo visto anche che alla base di tutto questo c'è il software. Le macchine intelligenti utilizzano il software e con il software si può fare tutto. Si può fare un virus, si può fare un programma applicativo utile, si può fare un gioco, ci si può divertire, ci si può lavorare. L'essenza di tutto questo è il software, che come ogni cosa umana può essere buona o cattiva. Quindi il programmatore può fare un software per aiutare l'umanità, può fare un software per danneggiarla.